Sono ancora 64 secondo gli ultimi dati ufficiali e relativi alle ore 18 di sabato 2 maggio i cittadini di Chioggia positivi al coronavirus. Ben 104 coloro che nel frattempo si sono negativizzati e quindi guariti. 30 purtroppi decessi per un totale di 238 persone colpite dal Covid-19 in città dall'inizio del contagio. Attualmente sono 27 chioggiotti che pur negativi sono in stato di isolamento domiciliare preventivo per essere entrati in contatto con persone infette. A questi numeri bisogna aggiungere, nelle ultime ore, tre ricoveri all'ospedale di Chioggia, tutti con tampone positivo al virus. Si tratta di due pazienti le cui condizioni hanno consentito di trovare posto nei reparti, mentre una donna di 77 anni versa in stato assai critico nel reparto di terapia intensiva. Intanto il vescovo Adriano Tessarollo ha diramato ai parroci le disposizioni per lo svolgimento delle esequili qui in avanti. Andranno concordate con le pompe funebri le modalità di svolgimento della cerimonia, sia all'interno o all'esterno della chiesa, con o senza la messa, altrimenti al cimitero con la liturgia della parola. Verrà evitato il corteo funebri al cimitero e i riti precedenti alla tumulazione. Bisognerà fornire le indicazioni dei 15 presenti al massimo, con obbligo di mascherine, guanti e del rispetto della distanza tra le persone. Nessuno può accedere con temperatura pari o superiore a 37 gradi e mezzo. La funzione liturgica verrà celebrata anche là dove è già avvenuta la cremazione. Inoltre il sacerdote ufficianti dovrà indicare ai singoli fedeli il posto da occupare nei banchi e distribuire l'eucaristia avendo cura di preparare le particole in un recipiente chiuso fino al momento della comunione, quando sarà egli stesso a raggiungerli attraverso i corridoi centrali. Lo stesso prete dovrà lavare le mani e indossare la mascherina prima di comunicare ai fedeli. Già da tempo sono state svuotate le acquasantiere ed è stato indicato di soprassedere al rito dello scambio di un gesto di pace. Infine i canti andranno eseguiti da un solista senza la partecipazione corale dei fedeli. Per quanto riguarda le offerte, è prevista una cassetta all'uscita dalla chiesa. Primo giorno di allentamento delle restrizioni dovute all'emergenza virale e a un primo sguardo pare che i chiogiotti non abbiano voluto strafare. Le nuove disposizioni del sindaco Ferro hanno ad esempio autorizzato la circolazione lungo il Lusenzo e questa mattina, tranne qualche podista opportunamente distanziato, nonostante la splendida giornata non c'è stata la ressa di passanti e ciclisti, la grandissima maggioranza dei quali indossava comunque mascherina e guanti. Chi si è avventurato alla riscoperta della città dopo due mesi di clausura forzata ha comunque notato come, nella laguna solcata da rarissime imbarcazioni, l'acqua sia particolarmente trasparente e ricolma di alghe in fase di autofizzazione per il caldo, oltre a una discreta fauna ittica in prossimità delle bricole. Dopo la più recente ordinanza del presidente della giunta regionale Zaia, anche i tre open shop in corso del popolo, in via Roma e in via San Marco, sono tornati aperti, nonostante raccomandino fin dall'ingresso il rispetto delle regole. Può accedere al massimo una persona per volta, all'ingresso si trova un erogatore di geli igienizzante, non è possibile consumare all'interno dello stabile, le telecamere di videosorveglianza possono essere utili nell'identificare eventuali trasgressori. Anche a Venezia, questa mattina, prime ore di semilibertà, la piazza San Marco, che fino a ieri appariva desolatamente deserta, ha ritrovato vitalità e presenze di tanti residenti cui non pareva vero di tornare ad affacciarsi in uno dei salotti più belli del mondo. La possibilità data dalla regione di poter passeggiare nella propria città è stata colta al volo, mentre in zona stazione le partite IVA si radunavano, a debita distanza l'uno dall'altro, per protestare contro le misure del governo e la lentezza nell'erogazione dei fondi. Una particolare nota dolente riguarda il trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, negli autobus di ACTV. Soprattutto la linea 11 tra Pellestrina, Gli Alberoni e Lido si è rivelata assai difficile per il rispetto delle distanze nel veicolo, nonostante almeno la metà dei posti a sedere sia stata inibita dall'utilizzo. I pendolari degli istituti denunciano per l'ennesima volta le condizioni di viaggio, comuni anche ad alcune tratte della terraferma veneziana. Non infrequenti i casi di conducenti, che per raggiunta capienza non fanno più salire i successivi passeggeri. A un mese dall'avvio del sistema di erogazione delle misure di solidarietà alimentare, il settore servizi sociali del Comune di Chioggia comunica il report finale dei contributi erogati e delle domande prevenute. Al 30 aprile sono state raccolte e valutate 1.366 domande. Tra queste, 975 nuclei familiari sono stati ammessi al contributo e 391 non ammessi per mancanza dei requisiti. Complessivamente, la popolazione raggiunta dei contributi alimentari ammonta 2.844 persone. Si tratta di nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non beneficiarie di reddito di cittadinanza o altre forme di contributi pubblici. Le località più interessate sono state sottomarina con 515 istanze accolte, poi Chioggia con 369, infine le frazioni con 91. Per la gran parte sono state consegnate carte prepagate, in numero di 952, e poi anche 23 pacchi alimentari. Tutte le domande presentate dai cittadini aventi i requisiti sono stati a vase e tutti i fondi stanziati dal Ministero, per un totale di 336.000 euro, sono stati erogati. La procedura viene quindi sospesa e i numeri verdi gratuiti 800-132-122 e 800-032-040 vengono disattivati in attesa delle decisioni del Ministero dell'Interno quanto è possibile rifinanziamento dei bonus. Le associazioni convenzionate, Caritas Diocesana e Banco Alimentare della Compagnia delle Opere hanno già effettuato le consegne a tutti i nuclei familiari a messi a contributo. L'impegno delle associazioni di volontariato ha consentito di attivare in più di 80 volontari con il supporto di altri 54 della Croce Rossa e 20 giovani scout. Tutti costoro la scorsa settimana sono stati sottoposti al test rapido degli anticorpi, risultandone negativi. Il primo maggio 1949 all'aeroporto di Linate a Milano un signore in borghese, Iginio Ballarin, venne fatto scendere dall'aereo diretto a Lisbona perché non aveva i documenti in regola per partire assieme alla squadra del grande Torino. Qualche giorno prima, nel capoluogo piemontese, un giovane portiere da poco inorganico, Dino Ballarin, ottenne invece dall'insistenza del fratello difensore Aldo e dalla benevolenza del presidente Ferruccio Novo, l'insperato dono di viaggiare verso la capitale portoghese assieme al campione e a tutta la squadra più forte d'Italia, forse del mondo. Una trasferta premio per la terza scelta che mai avrebbe giocato. In quel momento Renato Gandolfi, la riserva del grande portiere Baccigalupo, aveva salva la vita e ancora non lo sapeva. Furono queste le sliding doors del destino a privare del calcio italiano, della più forte macchina da spettacolo della sua storia e la famiglia Ballarin, conosciuta a Chioggia per la gestione di un paio di bar in corso del popolo, di due figli nel fiore degli anni. Assieme ad Aldo, titolare e nove volte nazionale, cadde anche Dino, già portierino del Clodia di scuola salesiana, entrambi con moglie e figlie stabiliti in via Torricelli. Chioggia pagò il tributo più alto e la più bastarda in giustizia, con due barre riverite della città per le settimane a venire. Aldo Ballarin era, secondo Gianni Brera, il terzino destro italiano più insuperabile di sempre. L'anno successivo, si disse, sarebbe andato all'Inter. Dino doveva invece ancora cominciare di fatto una luminosa carriera. Nel cimitero di Borgo San Giovanni, da pochi anni è stata ricostruita la tomba di famiglia. I fratelli Ballarin, detti Becca, ritratti tutti e quattro, assieme mentre vestono civili a qualche ricorrenza. Le loro spose di fianco, mamma Olga a vegliarli con papà Toni, che negli anni trenta li portò a vedere la Juventus giocare a Padova, facendoli innamorare del pallone. Lo stadio adiacente recca il loro nome, ci sono le statue, le gigantografie, e una pietra per sempre ricorderà a chi verrà poi cosa è stato il grande Torino, anche quando non ci sarà più chi ha visto giocare di persona Aldo e Dino Ballarin, gli invincibili. Grazie.